Questo film The Bride è un film prodotto dal Portogallo dove c'è qualcosa di meraviglioso che è la libertà di produzione. Non siamo schiavi delle tv, non siamo schiavi di fare quello che i produttori decidono. C'è una libertà immensa di creare e dunque il cinema è libero e libero da volare, come dite voi con il vostro manifesto nel Portogallo. Perché tutti i filmi sono diversi senza questa preoccupazione commerciale, con gente che crede che cosa deve essere il cinema invece di arte. Grazie a tutti i felici per il Venice Film Festival e per il suo 90 anniversario. C'è vero? Credo che il tutto il meglio del film film festival in Venice in 90. Grazie. C'è vero. Non ho parte di Hollywood, sono in un'altra parte, sono un'academia, non ho mai fatto un film prima, e per me è magico. Ok, Fernando? Cinema è il momento in cui hai tempo per te non pensi di rispondere a te, e ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia e ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia, ti lascia e ti lascia. Io preferi un'altra parte, che si chiama il giro, ma non ho mai leggere, ma credo che la stessa immagina. Come un'altra parte, come un'altra parte, come un'altra parte, mi ha visto un'altra parte, ma nemmeno, a tutti e alcuni di usci, e ho vivuto in un mondo di immaginazione, in un mondo di parallelo, e credo che sia un'academia di un'academia di un'academia di un'academia, per la loro capacità, per me vedo, con la stessa immagina di un'academia di un'academia di un'academia di un'academia di un'academia, per ricevere a gli starmi e rendere un futuro migliore per tutti. Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Buongiorno, 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 buongiorno. Buongiorno, buongiorno. 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 and fly with our wings happy birthday to the best film festival and the best film festival thank you for 200-300 years for God's sake thank you 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 thank you